Perché no alla fusione tra Verbagna e Cossogno? Perché noi riteriamo che la cosa migliore per Verbagna e soprattutto per Cossogno sia l'unione dei comuni. Quindi Cossogno deve unirsi con i comuni di Cambiasca, Miazzina e Intragna, fare un'unione dei comuni che funzioni e dia servizi al territorio, che oggi mancano perché un po' la provincia è andata in difficoltà dopo la legge del Rio e soprattutto perché Verbagna non ha le stesse caratteristiche di Cossogno e quindi non vediamo la necessità perché Verbagna debba unirsi con Cossogno, anche perché si fa già fatica a dare i servizi alle periferie, quindi non vorremmo che le nostre periferie per andare con Cossogno entrassero ancora più in difficoltà. Dunque voi contestate l'affermazione secondo cui da questa operazione deriverebbero vantaggi per entrambi i comuni? Sicuramente abbiamo valutato delle tabelle che sono state date anche ai cossognesi e abbiamo visto che un comune piccolo, fuso con un altro comune piccolo, ha portato al territorio poche centinaia, migliaia di euro. Quindi riteniamo che questi milioni non giustificano questo aspetto, anzi siamo preoccupati perché riteniamo che su Cossogno, quando Marchionini era sindaco, ci sono delle cose che devono essere esplicitate meglio. Il vostro è un no a questo caso specifico, non in generale alle politiche di infusione e unioni di comuni? Questa legge Forza Italia l'ha criticata fortemente in regione, noi siamo della stessa linea, soprattutto ribadiamo che questa legge delle fusioni non va bene. Va bene la possibilità di unire i comuni, diciamo montani come nel caso del VCO, anzi facciamo un appello al Presidente della regione Reschigna di non sponsorizzare come ha fatto finora la fusione tra Cossogno e Verbagna, ma si occupasse di canoni idrici, della specificità montagna e di altri temi, e soprattutto di ospedale, di Fendalcastelli, e non porti avanti l'ospedale unico perché è un verbanese, quindi deve fare gli interessi di Verbagna.